Uccisione confermata veterano Le piastrine valgono punti Uccisione confermata siamo in vantaggio Cristo santo come si muoveva Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Da che si è nascosto di entrare alla grotta Perché si è nascosto una mignota Perché non si è nascosto una mignota Uccisione negata No no Uccisione confermata Uccisione confermata No che cazzo le sfiga Nemico sotto EMP Equipaggiamento e funzioni ex o cuore uso Uccisione confermata Uccisione confermata Lancio di approvvigionamenti Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata Uccisione confermata UAV pronto Uccisione confermata UAV alleato in sorvolo Uccisione confermata Versagli nella sala d'attesa Uccisione confermata Torretta remota disponibile Uccisione confermata Mezzo Goliath disponibile UAV alleato online Goliat alleato in campo Queda lì Muore guarda No no Non venire No Un pochetto Ingo lì eh Da 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 Era satu No 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 UAB alleato online Uccisione confermata UAB nemico in volo UAB nemico in volo